Uno di noi, uno di noi! Allora, poi andiamo avanti perché qua di sopra ci sono un sacco di persone. Io prendo un tifoso particolare del Cesena che voi forse non conoscete, questo è un professore universitario di Princeton in America. Lui è Maurizio. Cesena! Maurizio Iroli. Allora adesso io vorrei lasciargli un attimo il microfono perché davvero è uno dei tifosi in number one di questa grande squadra. Cesena! Cesena! Maurizio Iroli! Volevo solo dire che Bisoli forse sbaglia qualche congiuntivo ma Cesena, il suo Cesena ha dato una lezione che pochi professori sanno dare perché ha insegnato come si vive non solo come si gioca a calcio come si usa il coraggio, come si usa l'umiltà, come ci si aiuta a vicenda, come si crede nei propri mezzi, come si ha la lealtà. E quel gesto di oggi di venire a salutare prima di tutti i tifosi è stata una lezione che nemmeno i migliori professori sanno dare. Grazie! Grazie! Grazie a voi tutti! Grazie! Grazie Maurizio!